Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Amo una donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Questa frase è una frase che viene ribadita a urbi e torbi su Repubblica, su tutti i principali organi della sinistra neoliberale, la New Left Glamour per ceti ambienti, una frase di Ellie Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico, punto di riferimento della visione del mondo delle classi dominanti, del patriziato cosmopolitico demofobico e no border. Ebbene, direi che in quella frase è compendiato tutto il programma super fucsia della neosinistra glamour di Ellie Schlein, la neosinistra della ZTL, la neosinistra della business class, rigorosamente per abitatori dei centri storici e per villeggianti di cortina d'ampezzo. Il lavoro e i diritti sociali sono, manco a dirlo, totalmente fuori dai radar, compaiono nel programma di Ellie Schlein soltanto i cosiddetti diritti civili, nobile nome che oggi viene utilizzato impropriamente per alludere sostanzialmente ai capricci di consumo arcobaleno per ceti ambienti che tanta libertà hanno quanta possono acquistarne, che sostanzialmente riconoscono come legge il loro desiderare consumistico e ove il loro desiderare consumistico non sia riconosciuto come legge, lì è una discriminazione da combattere. Quanto ai diritti sociali e del lavoro si tratta naturalmente per la rainbow left di Ellie Schlein di moleste richieste populiste del popolo degli abissi, composto da lavoratori, cetimedi e vari altri indesiderati e sconfitti della globalizzazione neoliberale. Quella globalizzazione neoliberale che per intenderci piace tanto alla new left di Ellie Schlein e che a sua volta in Ellie Schlein trova un proprio poderoso avamposto di riferimento. I destinatari dei discorsi politici di Ellie Schlein sono sostanzialmente loro, i vincitori, gli appagati, i semicolti subalterni che eleggono repubblica, il rotocalco turbomondialista a voce del padronato cosmopolitico, quelli che sostanzialmente sono convinti che il male non sia la globalizzazione neoliberale ma tutto ciò che a vario titolo prova a resisterle, dal populismo al sovranismo, dal socialismo alle richieste welfareistiche e salariali, alle esigenze di più sovranità dello Stato nazionale come baluardo della democrazia. Questo è il problema per la new left arcobaleno. E' questa la sinistra fucsia nella sua fase metamorfica definitiva divenuta cioè perfettamente identificata con il liberismo progressista o meglio con la sua ala sinistra. Basterebbe leggere ad esempio il recente manifesto di Aldo Schiavone pubblicato da Inaudi intitolato Sinistra per comprendere tutto questo. Secondo Schiavone non v'è dubbio la new left di Ellis Line rappresenterebbe la sinistra perfetta, quella che si è liberata perfettamente di Marx e della lotta di classe ed è divenuta semplice costola della globalizzazione neoliberale. Con una sinistra così vi assicuro gli oligarchi del capitale possono dormire sonni tranquilli da qui all'eternità.